Con Mario Azzori, presidente della Bocciofila Rionerese, 28esima edizione della Coppa, un evento prestigioso, quest'anno ritorna in grande stile. Beh, è una delle tante manifestazioni che stiamo facendo in occasione dei 50 anni della Bocciofila. Come hai detto prima tu la domanda ad Angela Laguardia, è partita a gennaio con la bellissima finale di Supercoppa. Adesso la 28esima Coppa Cittadini Nero e pensiamo di fare tra settembre e ottobre una gara giovanile per accontentare anche i ragazzi, visto che abbiamo una bella scuola a bocce dove il maestro che insegna i ragazzi è Giancarlo Savino. 50 anni si festeggiano della Bocciofila, un traguardo importante, un traguardo che la dice lunga sulle sfide, sulle vicende di una società simbola in Basilicata. Beh certo, io li porto i 50 anni tutti sulle spalle perché da ragazzino nel 73 ero tra i più giovani, non ero fondatore però ero tra i più giovani della Bocciofila. Beh sono passati tanti anni, tante manifestazioni, tante persone che non ci sono più, il mio maestro che mi ha insegnato a giocare a bocce, Enrico Camillo, l'amico Michele Viglioglia e tante altre persone che si sono susseguite in questi 50 anni, i vari presidenti, Antonio Libotti, Dilucchio Gennaro, D'Angelo Francesco, Giuseppe Fabrizio che è stato il promotore, è uno tra gli organizzatori per quanto riguarda la costruzione del bocciodromo nel lontano 1973-1974 e poi abbiamo avuto dal sindaco Orbino nel 2000 questo bellissimo impianto che ci permette di fare tutte queste attività. Qual è il motivo di maggior vanto e orgoglio per questo traguardo? Beh il maggior vanto per questo traguardo sono sicuramente la squadra femminile e la squadra dei ragazzi che siamo riusciti a mettere di nuovo su. Abbiamo fatto tanti tentativi negli anni, il problema è che arrivati a 19 anni come tutti i ragazzi in Basilicata a quell'età purtroppo, devo dire purtroppo vanno via o per lo studio e soprattutto per il lavoro e poi non ritornano più. Questa è una grave mancanza da parte delle istituzioni a livello regionale. In ultimo, Rio Nero è la zona, come vive questo fenomeno? Le bocce protagoniste anche nel mondo sportivo dell'area del Vulture? Nell'area del Vulture noi siamo sempre stati un punto di riferimento. Purtroppo è l'unico impianto nella parte nord della Basilicata. Melfi sta combattendo per la realizzazione di un bocciodromo. Rapolla ha un piccolo campo coperto però non permette di fare queste manifestazioni. E poi ci sono città grosse come Rio Nero, come Melfi, e parlo di Venusa e di Lavello che non vi è nessuna associazione bocciofila. cercheremo di fare qualche tentativo per riuscire a smuovere un po' le acque e quindi creare una bocciofila magari a Venusa o a Lavello. Si ha l'impressione che qualcosa sta cambiando. Un pizzico di interesse in più riscontriamo negli ultimi due anni. Sicuramente da parte del pubblico rionerese e non solo. Io invito veramente, adesso abbiamo fatto di nuovo un progetto bocce sia presso la scuola Preziuso, la scuola Medi Michele Preziuso e presso la scuola Granata. E probabilmente a giugno avremo altri ragazzi che cercheranno di venire qui a giocare e imparare a giocare a bocce.